L'onorevole Giorgia Meloni, buonasera onorevole Meloni Salve, buonasera, buonasera a tutti Buonasera a lei, ecco qua, benvenuta Grazie Ah, anche lei mamma, quindi auguri per la festa della mamma, anche a lei Grazie, grazie, anzi approfitto per fare gli auguri a tutte le mamme, particolarmente in questo momento in grande difficoltà e anzi forse un bel modo di festeggiare questa festa della mamma sarebbe stato dare qualche certezza su come faranno tante madri lavoratrici a tornare al lavoro avendo strumenti per poterselo permettere Adesso ne parliamo, oggi è stata una bella giornata per l'arrivo di Silvia Romano intanto questa è stata una grande notizia oggi, ha portato un po' di rischio Beh sì, sicuramente una bella notizia il rientro di Silvia Romano chiaramente spero e auspico che dopo aver riportato in patria questa nostra connazionale adesso il governo italiano si prodighi per andare a stanare i suoi carcerieri, i suoi rapitori Ce l'auguriamo Perché vede, sarebbe un dramma se passasse il messaggio che rapire gli italiani può essere vagamente come posso dire, remunerativo Certo, certo A noi serve invece dare il segnale assolutamente netto che non è un buon affare rapire gli italiani altrimenti rischiamo di chiaramente ritrovarci con migliaia di nostri connazionali che sono in giro per il mondo che domani potrebbero essere visti come un buon affare Poi ci sono delle riflessioni che andranno fatte anche sul tema della conversione di questa ragazza io non posso non ragionare sul fatto che è un modus operandi di buona parte del terrorismo islamico Credo che durante un periodo di prigionia, quando qualcuno viene privato dalla libertà credo che occorra far decantare, lasciare passare il tempo Certo, bisognerà poi fare una serie di valutazioni Penso che la cosa intelligente dopo i festeggiamenti che dobbiamo fare sicuramente è dare il segnale che l'Italia sarà implacabile con chi si permette di prendere i nostri connazionali e di rapire Allora, onorevole Meloni, ci sono tanti argomenti che vogliamo provare a toccare con lei Intanto, ecco, lei ha già detto subito una cosa sulle mamme si sta parlando molto di quello che accadrà alle scuole Insomma, è un periodo, credo, molto complesso per chiunque per chi sta al governo, per chi sta all'opposizione per noi tutti di questo paese, ma di tutti quanti i paesi è difficile, insomma, diciamo, non è una grande fortuna stare al governo in questo momento perché bisogna scegliere fra la sicurezza Anche a stare all'opposizione Anche all'opposizione, sì Insomma, bisogna scegliere fra la sicurezza, la salute quindi e dall'altra parte l'economia Ecco, lei non sente il rischio che ci sia troppa fretta nel dire improvvisamente riapriamo tutto Questa è la mia sensazione Dopo due mesi e mezzo di clausura sostanziale Prima di vedere che cosa succederà fra due settimane improvvisamente c'è una smania, riapriamo tutto Come se ci fosse un antagonismo fra, diciamo, il governo, le regioni Ciascuno va per i fatti propri, politici da una parte o dall'altra Secondo lei non si rischia? Ma guardi, sicuramente non si deve rischiare Noi abbiamo ovviamente il tema della tutela, della salute dei nostri cittadini che abbiamo messo al primo posto Abbiamo il problema di non rischiare di vanificare gli sforzi che abbiamo fatto finora sul piano economico perché c'è il tema della riapertura e c'è il tema di evitare che le decine di miliardi che noi abbiamo bruciato in queste settimane siano stati bruciati per nulla e quindi sicuramente bisogna fare dei ragionamenti estremamente complessi sulle riaperture però devono essere ragionamenti sensati Allora, io alcune cose, diciamo, penso che si possano a questo punto stabilire sulla base anche della conoscenza del virus che intanto abbiamo maturato A Monte le devo dire che consideravo necessario che la fase 2 fosse votata e discussa dal Parlamento italiano perché si tratta di privare le persone dei loro diritti fondamentali e se noi potevamo accettare i primi tre giorni dell'emergenza che il Presidente del Consiglio decidesse da solo su materie così sensibili io penso che non lo possiamo accettare dopo tre mesi Se il problema sono i tempi, come ha detto Conte in aula io ho detto e ribadisco che siamo pronti a stare in Parlamento giorno e notte ma credo che sia il Parlamento a dover decidere dei diritti fondamentali degli italiani Detto questo, dicevo, conosciamo il virus e conosciamo alcuni elementi che il virus la conoscenza di questo virus ci ha fornito Intanto, se noi abbiamo studiato i dati sulla letalità del coronavirus quindi il numero dei morti in rapporto ai contagiati sappiamo che il coronavirus è molto pericoloso per gli over 70 che è pericoloso per gli over 60 e che poi man mano che si scende è sempre meno, diciamo, letale Quindi lei dice una riapertura per fasce di età, per esempio Secondo me va considerata ovviamente la protezione dei più anziani ma il fatto che man mano che si va, diciamo, a ritroso con l'età il virus diventa meno pericoloso Leggevo addirittura Andrea Crisanti, così andiamo sul tema dei bambini che parlava di una possibilità che il virus di fatto sotto i 10 anni non sia proprio contagioso che quindi i bambini sotto i 10 anni, secondo Crisanti non verrebbero contagiati e non contagierebbero chiaramente io lo dico citando un virologo L'ho letta anch'io quella notizia dopodiché proprio l'altro ieri è morto un bambino di 5 anni a New York e un altro di 6 mesi Infatti bisogna studiare un po' questi dati a fondo capire se effettivamente ci sono elementi che possono aiutarci anche sul tema della riapertura delle scuole lei capisce che se noi diciamo avessimo elementi che aiutano molto sui bambini piccoli potremmo magari riaprire le scuole almeno le scuole elementari, la scuola dell'infanzia aiutare le madri che sono oggi maggiormente in difficoltà quindi questo è un elemento il secondo elemento è che non puoi trattare territori particolarmente colpiti come altri che non lo sono quindi lei dice un po' come la Francia con test veloci a tappeto sulla popolazione per individuare immediatamente gli eventuali focolai che si dovessero creare secondo me è un'altra cosa che ha una sua logica e il terzo elemento sul quale noi abbiamo fatto una battaglia è che io credo sia ingiusta la riapertura per settori perché tu non puoi stabilire sulla base del codice Ateco che ci sono interi settori che devono morire se le dice caso per caso in qualche modo insomma no io dico che lo Stato si deve assumere le sue responsabilità deve stabilire quali siano i protocolli per garantire la sicurezza e deve dire chi si adegua a quei protocolli può riaprire perché per come la vedo io l'ho detto e lo ripeto un ristorante che ha un grande giardino è più sicuro di un minimarket quindi il punto non è stabilire sulla base del codice chi è sicuro e chi no ma di criteri di sicurezza tra l'altro le dico un'altra cosa che nessuno sta notando sul tema dei protocolli anzi due cose se mi consente velocemente la prima e l'Inail a un certo punto ha paventato l'ipotesi che i contagiati diciamo sul lavoro fossero infortuni sul lavoro lei capisce che se noi diciamo avessimo questo rischio in Italia non riaprirebbe più nessuno intanto è impossibile stabilire dove una persona è stata contagiata oggettivamente e poi lo Stato non può scaricare sugli imprenditori il contagio lo Stato deve assumersi la responsabilità dire quali sono i protocolli e dire che per chi si attiene a quei protocolli chi si attiene diciamo non ha responsabilità ma scusi non vuole forse proprio dire questo cioè che attribuire la possibilità di un'infortuna sul lavoro sia manlevare dalla responsabilità civile e penale il datore di lavoro in quanto tale perché c'è un altro problema perché se un imprenditore apre pensi adesso alle strutture alberghiere, stive, campeggi, stabilimenti balneari e qualcuno si infetta di chi è la responsabilità civile e penale eh appunto io penso che lo Stato debba stabilire i protocolli e debba fare i controlli per verificare che si attiene a quei protocolli ma che per chi si attiene a quei protocolli chi si attiene debba essere sollevato dalle responsabilità perché altrimenti l'Italia non riaprirà più nessuno e non so se abbiamo presente il rischio di desertificazione che abbiamo al nostro ordinamento secondo tema è i protocolli i protocolli se esistono deve essere possibile attenersi mettiamola così perché se tu fai dei protocolli rispetto ai quali è impossibile attenersi quelli non sono protocolli sono divieti mascherati da protocolli quindi auspichiamo perché abbiamo letto un po' di tutto che ci siano dei protocolli vagamente sensati ai quali le imprese le aziende i commercianti possano in qualche maniera in maniera adeguarsi Onorevole Meloni posso fare un po' di domande ci proviamo a farne tante di seguito se riesci a darmi risposte rapide affrontiamo più argomenti MES perché a questo punto ci sono ancora riserve è stato detto scritto in tutti i modi non ci sono condizioni se non quello di spenderli per la sanità perché lei non ci crede? non può essere una battaglia ideologica io no io non faccio le battaglie ideologiche a me pare che le battaglie ideologiche le facciano gli altri io sono una persona abituata a studiare e a farsi delle domande allora punto prima io devo sempre ricordare diciamo preliminarmente che nel MES noi abbiamo messo 15 miliardi e adesso ci vogliono prestare i soldi nostri ci prestano 36 miliardi noi ce ne abbiamo messi 15 miliardi dice però il tasso di interesse è basso già non mi pare un affarone 0-1 beh niente lo dico perché scusi lo dico perché quando si parla di questo tema sembra che ci stiano regalando 36 miliardi allora voglio tranquillizzare tutti se mi regalano 36 miliardi io me li prendo se ne regalano 22 sono felicissima 22 ma non è quello di cui stiamo parlando dopodiché allora ci dicono che questi soldi non hanno vincoli che non ci sono le condizionalità è stato scritto è stato scritto questa volta sì però mi faccio arrivo al punto le spiego perché non sto dicendo una cosa campata in aria noi sappiamo che non ci saranno condizionalità sulla base di un dialogo tra la commissione europea e l'eurogruppo ok quindi tra le istituzioni dell'unione europea mi corre l'obbligo di ricordare a me stessa e non solo che il MES non fa parte delle istituzioni europee e quello che decide l'unione europea in teoria non c'entra niente con il MES il MES è un trattato internazionale indipendente dalle istituzioni europee per modificare quel trattato c'è bisogno dell'unanimità degli stati che ne fanno parte e quindi segnalo che secondo me il fatto che il circolo del bridge decida di stabilire delle regole non può dire diciamo così onorevole se fosse anche se spesso i soggetti sono gli stessi se fosse se fosse raggiungo solo questo pezzo se fosse invece appurato che è così come hanno detto insomma autorevolissimamente scritto che è così lei avrebbe ancora riserve ma non hanno scritto che è così sto arrivando al punto non hanno scritto che è così i prestiti pazio hanno sempre delle condizioni perché sono prestiti certo che vengano spesi per la sanità che cosa dice anche la lettera di Dombrovski e di Gentiloni quindi nel dialogo interno alle istituzioni europee atteso che secondo me c'è sempre un trattato che diciamo che è più vincolante delle lettere di Gentiloni e di Dombrovski dice che dopo il 2022 scatta la sorveglianza post programma ok lei pensa che noi restituiremo 36 miliardi di euro in due anni no noi non le restituiremo in due anni quindi fra due anni scatterà che noi abbiamo diciamo così semplificando adesso mi consenta la semplificazione la troica dentro casa il direttore del MES per intenderci dice per noi le condizionalità light valgono fino alla fine dell'emergenza e poi dice per noi la fine dell'emergenza è fra un anno ok quindi la mia impressione che oggi si dica non ci sono condizioni per l'accesso ai fondi ma poi ci saranno le condizioni durante la restituzione perché sono così contraria glielo spiego in 20 secondi non per una questione ideologica sono contraria perché ho ragione di diciamo così immaginare quale sia l'obiettivo per il quale tutti questi paesi sono così buoni che ci vogliono tanto spingere a prendere i soldi del fondo salvastati la vigilanza post programma cioè avere la troica dentro casa porta come lei sa diciamo delle scelte politica economica ma se così fosse qual è il grande e dico solo questo e giuro questo si qual è il grande obiettivo dei tedeschi da sempre tedeschi dicono da sempre italiani un altissimo debito pubblico ma un altissimo risparmio privato se gli italiani fossero stati tassati dei loro patrimoni e dei loro risparmi privati si dice in questi giorni tra il 14 e il 20% il debito pubblico italiano sarebbe sostenibile allora qualcuno dovrebbe tranquillizzarmi del fatto che non accadrà mai che gli italiani dovranno pagare una diciamo così tassa sui loro patrimoni sui loro risparmi che si vedranno sparire queste risorse al 15 al 20% perché hanno perché l'Italia ha deciso di accedere al fondo salvastati siccome garanzie finora non le ho continuo a essere contrarie ma i bot patriottici invece questi sono la sua idea assolutamente sì la mia idea non è solo il bot patriottico la mia idea è che l'Europa si mostrerebbe davvero utile in questo momento se la banca centrale europea si comportasse da banca centrale facesse quello che stanno facendo le banche centrali di tutto il mondo cioè comprare titoli di Stato illimitatamente però i bot patriottici in qualche modo sarebbero comunque garantiti dall'Europa in tanti non chiediamo che siano garantiti dall'Europa noi chiediamo un'emissione di questi bot patriottici titoli di Stato a lunghissima scadenza diciamo cinquantennale e gli italiani obbligati a comprarli esatto non tassati non tassabili intanto diciamo una cosa quindi chiaramente circolabili quindi diciamo qualcosa su cui gli italiani potrebbero essere spinti a investire e dovremmo chiedere alla banca centrale europea di comprare i titoli i bot patriottici che noi riusciamo a piazzare sul mercato questo è quello che stanno facendo le banche centrali di tutto il mondo quindi non obbligati scusi scusi onorevole gli italiani non obbligati a comprare non un prelievo forzoso sotto forma di voto no 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 non obbligati a comprare credo che debba essere volontario ma credo che un strumento di questo tipo in un momento di questo genere lo abbiamo confrontato anche con molte associazioni su molte realtà invece sarebbe uno strumento molto appetibile rimane comunque un valore che hai in tasca iper garantito quindi insomma mi sentirei di essere abbastanza serena sul fatto che sarebbero uno strumento efficace in questo momento poi non lo dico io Giulio Tremonti altri economisti diciamo più preparati di me all'orevole Meloni dai sondaggi emerge che il politico della destra è lei lo dico senza problemi perché tanto so che voi siete un'alleanza stabile come un affetto stabile siamo un affetto stabile infatti noi possiamo vederci siete dei congiunti nessuno nessuno si offende che cosa la distingue però dal suo alleato in che cosa siete diversi perché se siete uguali è inutile essere ma guardi in tante cose siamo diversi io lei diceva la destra io sono la destra fratelli d'Italia è il partito della destra in Italia la Lega viene da un'altra storia ha fatto un altro tipo di percorso il nostro percorso è diciamo una cosa molto chiara mi faceva sorridere qualche settimana fa Vittorio Sgarbi diceva fratelli d'Italia ha molto consenso in questa fase perché è un po' come Larry's Bar sai esattamente sai cosa trovi sai cosa c'è ora io chiaramente mi sento più affine a diciamo no magari altri tipi di locale però è una è un racconto della storia di Fratelli d'Italia che io condivido Fratelli d'Italia è la destra italiana e penso che la coerenza che il fatto di avere una visione del mondo molto chiara ci ha costretto la coerenza lei dice la coerenza in questi anni poi si è risultato la differenza con il suo alleato e la coerenza insomma sostanzialmente no no è una storia diversa è una storia diversa noi sicuramente abbiamo una rigidità che ci ha impedito per esempio di fare che ci avrebbe impedito e ci ha impedito di fare il governo con il Movimento 5 Stelle piuttosto anche se sul MES stavo pensando adesso si è ricomposta l'arianza giallo-verde di fatto lì siete d'accordo di nuovo come prima insomma le 5 Stelle speriamo se una volta tanto le 5 Stelle saranno coerenti va bene senta Zaia Fontana si dice in questi giorni che Zaia sia addirittura indicato come possibile leader di una coalizione di centro-destra per come si è comportato in questa gestione lei cosa ne pensa? Penso che non sta a me dire una cosa del genere attualmente il leader della Lega è Matteo Salvini e quindi non credo che sarebbe gentile e carino da parte mia mettere bocca in una vicenda del genere sicuramente Luca Zaia ha gestito molto bene la fase dell'emergenza credo che la regione Veneto abbia avuto una capacità che non ha avuto per esempio il governo nazionale di essere estremamente veloce nelle decisioni di prendere delle decisioni molto chiare molto nette all'aver appunto ordinato i tamponi prima degli altri l'aver fatto un numero molto alto di tamponi ha portato una gestione dell'emergenza in Veneto molto efficace che probabilmente voglio dire questa cosa ha pagato se anche il governo nazionale si fosse mosso con un'altra velocità si potevano fare altre cose continuo a chiedermi perché è stata dichiarata un'emergenza sanitaria il 31 di gennaio il 20 di febbraio si stesse ancora lì a fare gli aperitivi sui navi le faccio tre domande velocissimi ieri sera il consiglio dei ministri ha approvato il decreto che fissa nuove regole per la scarcerazione dei condannati per la sensazione mafiosa questo è sufficiente per ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede? no non è sufficiente per ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede valuteremo il decreto nel merito ma credo che sia stato gravissimo nel momento in cui in Italia c'erano state delle rivolte nelle carceri che avevano chiaramente una regia che era della criminalità organizzata per arrivare alla scarcerazione di una serie di criminali e segnatamente di una serie di boss mafiosi credo gravissimo che lo Stato invece di dare punizioni esemplari si sia piegato a quello che volevano i boss e che abbia fatto esattamente quello che si aspettavano i boss penso che non so perché il ministro Bonafede abbia fatto una cosa così folle non sia se sia incompetenza se siano trattative non lo voglio sapere so che tutte le cose sono incompatibili col fatto di fare il ministro della giustizia secondo lei ha ragione Zingaretti quando dice l'unica alternativa al governo in carica è il voto lei pensa che sia un'ipotesi possibile? sì lo spero speri non c'è dubbio non oggi non oggi non tra una settimana ma lei sarebbe contenta in questa situazione di andare al governo? no ovviamente ho il senso della misura ma sarei pronta a assumermi le mie responsabilità contenta? no sicuramente io non andrei al governo con un gioco di palazzo ecco se arrivo al governo semmai nella mia vita arriverò al governo ci arriverò perché mi ci hanno spedito gli italiani con il loro consenso e il loro voto sul voto si parla di votare per le elezioni regionali se a luglio a settembre a ottobre si potrà votare per le elezioni regionali perché non si potrebbe votare anche per il governo nazionale io penso che noi dobbiamo distinguere l'emergenza sanitaria dalla ricostruzione economica l'emergenza sanitaria durerà speriamo ancora qualche settimana ma la ricostruzione economica durerà anni e immaginare che lo si possa fare con dei governi che sommano i limiti del governo giallo-rosso con i limiti del governo giallo-verde a me francamente non torna un'ultima considerazione che per quel che mi riguarda è la più importante è il sicuro le chiedo di credermi insomma sulla parola è una considerazione pre-politica mi riferisco agli immigrati alla regolarizzazione degli immigrati in Italia 600.000 persone ora è diventato un derby chi è d'accordo chi si e chi no ma i 600.000 ci sono al di là di un fatto di egoismo puro cioè che regolarizzarli vuol dire poter controllare la loro salute e quindi il contagio anche la nostra ma non stiamo parlando di braccia come dice Abubakar Sumahoro quando parla dei braccianti stiamo parlando di persone che non hanno scelto né dove nascere né da chi nascere né in quale condizione vivere che cosa osta al buon senso diciamo oltre che all'umanità a un principio di umanità la regolarizzazione di queste persone che sono sul nostro territorio che secondo me non è una cosa intelligente stabilire il principio che gente che viola le tue regole poi viene premiata anche rispetto a quello di cui si discute in questi giorni vede mi fa molto sorridere sinceramente Fazio che noi parliamo di regolarizzare gli immigrati per gli immigrati clandestini per consentire loro di lavorare nei campi clandestino quando ricordo c'è nessuno al mondo clandestino clandestini siamo tutti qua lei li può chiamare come vuole ma sono clandestini siamo figli dello stesso tempo dopo di che a me francamente sfugge la ragione per la quale noi dovremmo per esempio premiare queste persone con la regolarizzazione e con un lavoro quando si dice li mandiamo a lavorare nei campi quando ricordo che la raccolta nei campi viene fatta normalmente da immigrati regolari che regolarmente e rispettando le regole vengono a lavorare sul nostro territorio nazionale che hanno aspettato che l'Italia consentisse loro di arrivare sul territorio nazionale per poter fare il loro lavoro regolare e che perderanno secondo quello che vuole fare questo governo la loro possibilità di venire regolarmente a lavorare in Italia per poi tornare nei loro paesi nelle loro case perché noi abbiamo deciso che privilegiamo quelli che invece le regole non le hanno rispettate secondo me per nessuna nazione al mondo è intelligente dire al cospetto del globo terraqueo se vuoi venire in Italia sappi che non devi rispettare le regole se vuoi venire in Italia l'unica possibilità che hai è dare i soldi agli scapisti a me non pare un modo intelligente neanche però darli perché sa quando si dice aiutiamoli a casa loro darli a coloro che li riportano nelle carceri libiche non è una cosa altrettanto intelligente se mi consente nel senso che che vuol dire darli a coloro che li riportano restituirli alla cosiddetta guardia costera libica che li riporta quando arrivano i migranti io ho sempre parlato di fare un blocco navale secondo me va fatto con le organizzazioni internazionali ci hanno sempre detto che il blocco navale non si poteva fare poi adesso lo hanno fatto con le armi il blocco navale dalla Libia guardi è un tema molto complesso perché la verità che noi dobbiamo fronteggiare è che noi in questi anni non ci siamo occupati dei veri profughi i veri profughi noi sui veri profughi ci siamo girati dall'altra parte perché a noi non interessa secondo quello che sta accadendo se qualcuno sta morendo a casa sua noi guardiamo solo quelli che arrivano da noi perché danno i soldi agli schiafisti ma non è un modo intelligente di procedere tant'è che il 92% di quelli che arrivano da noi sono uomini soli in età da lavoro quindi non gente che scappa dalla guerra perché quelli che magari invece sotto la guerra ci stanno rimanendo non ce ne siamo occupanti perché siamo lì tutti attenti a quelli che hanno dato i soldi agli schiafisti ci sono centinaia di donne di donne bambini di mamme di bambini di neonati il 15% massimo di coloro che arrivano da noi sì sì non è che sono buoni mi dispiace sono i dati non è che sono buoni non è che sono buoni va bene la saluto per intanto la ringrazio per essere stata qui grazie a lei ci vediamo presto spero e buona serata arrivederci grazie a tutti